Allora, sigla! Eh, allora, incontro l'ottomodori per essere World 13, ok, è questa la missione. Eh, mo bisogna chiamare dove cazzo sta. Allora, qua c'è il giovanotto. Grazie tante, portare all'interno del World un ibrido umano Root non ci si ritorcerà contro. Vabbè, va a cagare, facciamo affari. D'accordo. C'è la puttana, no, ha salvato, ha salvato. Marca tutti i nemici, va bene. Questa è infinguta, no, vabbè, no, non compremo niente. Siamo taccagne e spilorci. Eh, immagino di sì, ma non ne ho ancora trovata mezza. Allora, lui mi doveva... Allora, lei, lei, mi deve dare... La gente le sta bella alla larga. Ha un nonso che vi ul... Penso che... Vabbè. Ho solo il... Allora, prendiamo ancora qualche benda. Tre e cinque bende. Bruciatura. Otto. Ma questi altri cinque, vai. Questi altri cinque, va. Inizia mille. Porca puttana, ho speso un sacco di soldi. Ehi, ciao. Ma e ciao che è? Ma che cag... Ma chi dica un nome? Ma chi ti sa in cula? Ho speso troppi soldi, ho sbagliato. Ma qualcuno mi sa dire dov'è sta signorina. Hai già ucciso tutta la ramaglia? Ford ha sigillato i livelli inferiori di questo posto. Se provi a scendere, ti sparano a vista. Nasconde qualcosa là sotto. Ah, forte sta informazione però. Ma dov'è la signorina? Proviamo a scendere per Curiosity. Giovanotta, neanche ha visto... Abbiamo cercato di mettere la Root madre il più possibile a suo agio. Si, ma dove sta? Era la più vicina di tutti ai Root. Speriamo ci sia d'aiuto. Comunque è strano. Si aggira per il World come se fosse già stata qui in precedenza. La terrò d'occhio per ora. Non sappiamo cosa aspettarci. Vabbè, troviamo sta... Sta giovanotta qua. Quello è sempre che si lamenta. Ma che cazzo vuole? Allora, qua mi dice che stanno in tre e in tre stanno. Ebbè, che cazzo ti sei in culo? Davanti. Magari sta qua? Non sembra. Ma io dalla mappa riesco a vedere? No. Vabbè, già che sto qua, vediamo cosa succede se vado di sotto. Proviamo. Ci vuole... Ah, vedi? Ce l'avevo la tesserina. Allora, esploriamo. Che cos'è? No, questo. Questo. Stombo dalla conoscenza che mi dà più uno, ok? Premio un tasto qualsiasi, va bene. Posta elettronica. Aggiornamento dei protocolli di sicurezza. Ok. Abbiamo deciso di rafforzare il nostro protocollo di sicurezza a causa dei recenti avvenimenti. Verrà effettuato un controllo aggiuntivo della foto del documento di identità prima di entrare nel volto 13. In questo ingresso richiedere sempre l'uso di tessera di sicurezza personale. Tuttavia vi sarà un controllo aggiuntivo dell'identità prima di entrare nel world. Abbiamo già avvertito tutti gli agenti di sicurezza di questo cambiamento. Il loro suolo è vero, 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 vero. Vedete a mente, ok. Va bene, ok. Sembra corretto. Quindi possiamo anche esplorare questo piano. Soggetto 24-19-1 Osservazioni e conclusioni preliminari. Riassunto. Il comandante Neville ha chiesto indicazioni su quale mondo dovremmo scegliere per la nostra prima spedizione fisica. Soggetto 24-19-1 Eppure è la stessa storia che c'è in Ashen. Cioè come fanno a non essere gli stessi autori? È la seconda sognatrice connessa al mondo. È proprio la stessa storia. Dei cosiddetti lanuginosi. Tuttavia il mondo è cambiato drasticamente a seguito della perdita del precedente sognatore. Con l'avvento di una nuova entità, guardiano, l'invasione di nuove specie e le alterazioni diffuse al mondo e agli abitanti si può tranquillamente affermare che tale mondo non appartiene più all'aluginosi. E che sia altamente pericoloso. Al mio suggerimento non interprendere in questo momento alcuna spedizione fisica in quel mondo. Ok. Gabriel Almaristo la sedia è a causa dell'uccisione della sua entità guardiano per mano degli abitanti del suo mondo. I lanuginosi erano esseri intelligenti e bellicosi. Non vanno d'accordo le due parole. Eppure si prendevano cura gli uni degli altri e ancora non sappiamo perché si siano rivoltati contro il loro guardiano. Ah, nel seguito Cassa si vincolò a quello che sembrava essere un guardiano in quello stesso mondo. Da allora raccogliono freneticamente i nuovi dati. Il mondo di Cassa è persoché irriconoscibile. Gabriel aveva osservato un massiccio organismo vivente popolato da piccole creature pelose chiamate l'anuginosi. Tuttavia quello che vede Cassa è un mondo ricoperto di escrescenze radiciformi sotto le quali non resta quasi più nulla del paesaggio presente in origine. Non c'è quasi più traccia delle luginosi per almeno in vita. Ovviamente è una specie di creatura. Una specie assomiglia a delle piante come alberi e radici in grado di muoversi sono creature violente e distruttive e danno la caccia alle luginosi. Li massacrano e poi ne abbandonano le carcasse per ucciderne altri. Ma che cattiveria! Ma voglio vederli l'anuginosi. Non credo che le luginosi avranno possibilità di supervivere senza un qualche intervento, poverini. Sono dei piccoli furbi. Oh ma quanto cazzo di testo c'è in questo gioco? Ma dovevo stare 20 ore, 3 ore a giocare e 20 ore a leggere? Tuttavia, sanno così le cose, non mi sento di proporre una spedizione di umani nel mondo di cassa. Fremolo prima. Ok. Per il momento è a mio parere che la cosa migliore della sua procedura è che la nostra osservazione è apprendere il più possibile su questa nuova specie e quindi decidere come affrontarla. Esci. Posta elettronica. Ozza. Carissimo Ray, so che mori dalla voglia di sapere cosa sta facendo il governo da quando mi sono trasferito al World 13. Ma così tanto volevo dirti che non so proprio dove cominciare. I cristalli rossi non sono quello che pensavamo. Reg. Non sono fonti di energia, sono canali attraverso lo spazio stesso. Lo so, faticherei a chiederci anch'io. Ma aspetta di vedere cosa stanno facendo. Hanno collegato delle cavie che chiamano sognatorie a delle specie di entità guardiana in altri mondi. Vada bene, non in altri pianeti. Parlo di mondi paralleli accanto alla Terra, ma accessibili solamente attraverso i cristalli. Ford e Asgard, ricordi il capitano Ford, caro? Ehm, vabbè, l'ufficiale del momento che ci ha fatto visita all'università hanno portato con loro alcuni sognatori in un atollo in mezzo al mare. I loro risconti preliminari sembrano dalle fiabbe, fauni, goblin e persino magia. Ovviamente non può trattarsi di magia, ma non possiamo descriverla diversamente, ok? È difficile spiegare senza poterti mostrare nulla, Reg, ma non posso farlo finché non sarai trasferito. E non so nemmeno se mi lasceranno spedirti questa lettera, ma non preoccuparti. Quando arriverai vedrai, eh che cazzo, guardrai tutto con i tuoi occhi. Il nostro world ha già due sognatori collegati, ora sto supervisionando l'attivazione di un terzo. Lo chiamano Gabriel, anche se non credo sia il suo vero nome, moglie della voglia di vedere quello che vedrà. Siamo in procinto di scoprire qualcosa di sensazionale, Reg, nemmeno Einstein aveva pensato che l'università nasconde sui simili segreti. Chissà quali meravigli attendono soltanto di essere scoperto. A presto, Melinda, Belinda, accedi. Il nostro guardiano è bastire con gli abitanti, per non dire cattivo. Ok. Vabbè dai, eh... Ho già giusto tutti i portacassa, è solo questione di tempo. Abbattere contro la porta, ho saputo che stavo cercando di fare... Ma è finita, lei è morta, le dici sono ancora là fuori. Ok. Va bene, c'è una lora... Una lora, una loredana, piuttosto copiosa. Ok. Non dice niente però Guarda, di là si va Ah, non è quello che andava fatto Però Me ne ha fatto venire la curiosità Fondi Che cos'è? Fondi Non stupisci che nel world Si trovano fossili di scorta Ci sono sempre dei picchi di corrente Che mettono fuori i pannelli Ok, ci servirà È un oggetto chiave di missione Quindi ci servirà ad un certo momento Nella storia Ma guarda Allora, mi sto perdendo io Un collegamento che non ho visto Ma è la stessa ambientazione Di Ashen, la stessa storia di Ashen Sembra quasi un proseguio Di dove era finito Ashen Quindi secondo me è impossibile Che non siano gli stessi autori Ma non posso interagire Non posso vedere niente Ah va, mi metti 6.000 Così da leggere Almeno un video Me lo fai vedere, no? Ma non è nada E' cagare Potevo fare sta cosa? Vabbè Te frego Cato le munizioni E benda Per me stiamo andando In una zona In cui non dovremmo andare In questo momento No, no, basta Il soggetto 20.09 è collegato I problemi di vedere Sono stabili Ma noi ci abbiamo Dati visivi E possiamo solo sentire Un rumore lieve Da continuo click Fino a noi I tentativi di trovare Uno schermo In questi click Sono stati inutili Io credo che non sia Un altro che rumore di disturbo Magari dagli errori Dell'apparato Di registrazione Amplificati Ok Molto probabilmente Il dottor Asgard Ha fatto un errore Nella lettura dell'erruna Attendo Conferme Asgard dice Che non si sbaglia Di continuare A monitorare Lo faremo Solo per coprirci Il culo Sembra che resteremo Abbaccati qui Per un bel po' Vedo il suo dato semplice Ieri dottor C'è stato un cambiamento Nella traccia audio Per circa 20 minuti A partire Dalle 2.0.11 0.2.11 Ho sentito Una specie di canto Non saprei Com'è altro Descrivere tutto questo Mentre il brontorio E i click di fondo Continuano come al solito Ho lasciato Il nastro Nel suo ufficio Ah forse Quello che abbiamo sentito prima Potrei anche aver visto Un'anomalia nel video Durante tutto questo Un impulso luminoso Molto debole E rapido Però chissà Potrebbe essere stato Un errore di registrazione Ma io sento qualcuno 10 dollari 10 dollari ad outgard Ok Peggio di uno spettacolo Avevo tecnicine di luci Che si accendevano E spegnevano Senza apparentemente Schieme I colori variavano Ma perlopiù Si sono alterati Tra le lunghezze d'onda E il blu E il giallo Dopo circa 145 minuti Il pulsare delle luci Iniziato a rallentare E intorno a 160 C'è stato del tutto Questo sognatore È legato a qualcosa Algo non riuscirò a mai perdere Ok Allora Ok Vabbè Ok Altro computer Così eh Tanto per Sto sicuro No Aspetta Il sognatore È noto come Gabriel Il soggetto 24-19 È collegato I dati arriveranno Più velocemente Di quanto ne possiamo Allaborare L'entità legata a Gabriel Trova io un vero e proprio mondo Il suo è fatto di carne E risponde agli stimoli Ma si sente qualcosa Qualcuno che cammina Sente qualcuno Che cammina indistintamente Gli abitanti del mondo Sono altrettanto affascinanti I piccoli bibbi di Pelosi Che abbiamo chiamato L'annucinosi Per la loro sovienza Alle creatori dei romanzi Di Abby Pimper Ma si sente In un linguaggio Che costruiscono strumenti Di strutture Dandole Escrescenze simili Ad ossa Si tratta di riservazioni Preliminari Ok Sfiducia Dei lanuginosi Lanuginosi Si comporta in un modo Sempre più strano Inizialmente Veneravano l'entità di Gabriel Come un dio Ma ultimamente Abbiamo notato segnali Di paura e sfiducia Alcuni di loro Gli hanno persino Lanciato dai sassi Al loro guardiano Che si colpa Il legame con Gabriel Siamo stati molto attenti Comunque mi dà fastidissimo Sto rumore Di persona Che ti si avvicina Mentre stai leggendo qualcosa Che fa dei passi Verso di te È tremendo Siamo stati molto attenti A limitarci A osservare A non interferire Ma forse I lanuginosi Hanno notato Un lieve cambiamento Che non avevano previsto Lieve per noi Ma così forte Per loro Da provocare Una reazione violenta Non mi sembra possibile Una piccola parte Della squadra Tema che questo Si preoccuterà Sul nostro esperimento È più opportuno Chiedersi Se il nostro stesso Osservare Non stia influenzando Quello che vediamo Poi abbiamo avuto Anche una sommossa È stato attaccato Ok Alcuni della squadra Dicono di risvegliarlo Sono ancora in minoranza Però Ok È stato dichiarato Morto È morto Sulla sedia Ok Vabbè Questa è la stanza Di Gabriel Quindi immagino Ah ma di qua Si continua Altro No che cazzo No che cazzo Se potete Nel esempio La recondisata In questa stanza Entità Che è Nella sognatrice In un altro mondo Ghiacciato Ok Sembra di fattere Eh Agli addetti A questo settore Leva romalia Di polas Orfani Ok Abbiamo messo sotto Sotto situazione Clementine Finché i suoi livelli Di Nora Adrenalina Non torneranno Normali Sospetto Che sia stato Il capitano Ford A ordinarlo Dopo quello Che è successo A Gabriel Qualcuno può dire Inseventi Di non trafficare Con l'aria Condizionata Già la terza Volta Revimo Clementine In questo Mese Qua c'era Clementine Gabriel Eccetera Eccetera Qua è chiusa Eh certo Non fa effetto E vabbè Quindi Abbiamo trovato Qualcosa Che dovremmo Sulla quale Dovremmo tornare Più avanti In realtà Vabbè Abbiamo fatto Un giretto Qui E va bene Allora Scendiamo ancora Più Per vedere Se veramente Ci Ci scatafasciano Di legnate Come ci dicono Dalla regia Vediamo Research Ah ne manca un altro Però forse No Va Grande Ehm Dovemmo Ehm Andere Per primo Terminal Condition Ok Venda per uno Eh nient'altro Tutto qui Queste cose però vanno fatte un po' più avanti Secondo me Comunque non ci hanno sparato a vista Come dicevano i tipi Ce l'ho una lucetta io No Ok Isola conferenze dove si fumava tanto Si controllavano cose Sangui in aria per uno Va bene Che cazzo fa Cadano le munizioni Questo qua l'acolo niente Che fa? Guardavano Favano i guardoni Eh questo è lo stesso Portale che ce l'ha pure in Ashen Un specchione Blocco di sistema attivato Ah mi serve il Tesserino Sembra non faccio effetto No c'è un tesserino più mega power qua Troviamo almeno qualche oggetto Che ci è utile Cadano le munizioni Va bene Il tomo della conoscenza E va bene Ma io posso investire In questo Così Livello da panico Vabbè Sembra che non ci sia nient'altro qua Meglio non con le nostre autorizzazioni E quindi Bom I think that we can go Vabbè andiamo a trovare Questa signorina E poi magari proseguiamo un attimo Anche con la storia Dopo che era un po' Un po' striglito qua Nei sotterranei Ce la fai? Eh devo caricare un po' di roba Allora B1 B2 Research L1 Ok ci siamo Andiamo Ma che cazzo Dei problemi c'hai Dei Ma che fa Ce sta a provare Ma ci sta a provare Ma io mi sono girato un po' tutto Questa signorina Dove micchia sta? Dovevo andarci io là fuori Ci sono tante ore Fuori Che non sono fortunate Tu hai toccato il cristallo rosso E Sei sparito all'istante Sei sparito per un po' Il numero degli schetti aumenta a dismisura Quando lei si ammora Sono l'unico A sapere cosa stia davvero succedendo Tipo? Siamo davvero nei guai qui Gli altri non lo sanno Ancora Lo vuoi dire? Da dove provengono le ramaglie? Forse sono sempre state qui Mai avuto la sensazione Che le ombre ti seguono Non vogliamo problemi Qui al world Capito? Cazzo di problemi c'hai? Si dice che tu abbia liberato Accidenti Ci ha reso tutti nervosi Potrebbe essere una spia di root E non sapere Quindi sei Bo world Del world 13 Sì È stato il comandante Ford A darmi il nome Credo Significhi che faccio parte Del world Mi occupo della sicurezza Del world 13 Tu cosa faccio? Sono ancora alle prime armi Il comandante non mi avrebbe Noi Noi Svolgiamo Noi svolgiamo Continua Ricorda Stai alla larga Dalle aree riservate Quali sarebbero Queste aree riservate Perché le volevo trovare Ma non le ho trovate Cazzo vuoi? Bene Continuo a sperare Che Mark Mark non tornerà È giusto Che ci sia più Chi è Mark? Era il mio fratellone Era fuori Eh magari torna Che ne sai te Era fuori Quella porta grande Non abbiamo potuto Farlo entrare Con tutti quei rotti in giro Gli avevo detto Gli avevo fatto un sogno In cui non tornava più Sei zitto Sto parlando con un'altra persona Lo vedi Beh A volte Mi sembra Di esserci dentro Ok Miesco Miesco a percepirli Ok come l'altra persona Oh ma che cazzo vuoi? Solo qualche settimana Siamo stati Separati dai nostri geni Mark Si è preso cura di me Quando eravamo soli Ora Ora che non c'è più Sì Provo Ah ci si vede Te stai zitto Dove cazzo sta Sto signorino Non riesco mai a strappare Un sorriso al comandante Non lo so 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 Le pareti hanno orecchie Ho sentito parlare di Les Chissà se è riuscito a scappare Stammi bene amico Insomma Quanto tempo ci resta Davvero Scusatemi Allora C'è una tipa isolata Dovrebbe essere quella là Aspetta no Aspetta io Così cosa sto guardando Così sto guardando qua Che mi dice che ci sono quattro persone Ok non tre Salve Guarda dove cazzo stava Finalmente Ma c***o Se sei imboscata Se sei messo un tendone di sopra Ma va a c***are Fa pure il Rebus Ma non sono più neanche umana È una testa di minchia Tu cerchi aiuto Insegui una strada Devi trovare colui Che è chiamato il fondatore Che è l'unico che conosce Il percorso che stai cercando Di famoso questa doppietrice Per trovarlo Devi prima aprire Il labirinto Cos'è il labirinto? È un crocevia Per molti luoghi Il fondatore si è avventurato là Sfuggendo alla mia vista L'ho condotto al labirinto Come faccio con te Cerca una grande luce Che brilla nel cielo La via verso la sua origine È difesa da una mostruosa creatura Ocevi la bestia Cerca la luce che protegge E il custode della Aspetta Posso offrirti un altro dono Per respingere L'onda Hai un pezzo di cuore di drago Ai Ruth Non piace condividere i loro poteri I mondi abbondano di potere Vorrei vedere cosa puoi migliorare Posso offrirti Ah non c'ho il simulacro però Aumenta di uno in uno di cariche del cuore di drago Eh no Sì però vattene pure affanculo Posso dire giovanotto È stato due ore qua Per trovarla Che stava qua dietro Questa mappa Non si capisce niente Io non sto a capire niente Allora tocca il cristallone Mazzicalippo qua Allora viaggiamo attraverso il Mazzicalippo Verso la chiesa A Gisela ci piace Mazzicalippo Mi nienterebbe un ghiacciolo Allora Detto ciò Torniamo qua all'esplorazione selvaggia Di questa bella chiesa degna di Non so cosa Allora Per curiosity Non c'è sta niente Va bene Era giusto controllare Signorina ci aveva detto di controllare Il buco che ci ha creato lì là Però c'era anche un passaggio qui lateralmente Magari non porta niente Magari invece si Madonna un altro diario 26 marzo del 73 Faccio dei sogni sempre più brutti Ieri notte stavo dando la caccia a una famiglia nel bosco fuori città Riuscivo a sentire l'odore della loro paura Mi piaceva Ne andavo pazza Mi spingevo a correre più veloce Quando mi sono lanciato su di loro Ho provato un piccolo immenso Mi sono svegliata urlando Mi piacerebbe dire che fosse una grida di terrore Però non ero sicura Le mie urla hanno svegliato gli altri La piccola Nadine Ha cominciato a piangere Andrew mi ha chiesto cosa fosse successo Io ho detto che Nadine ha avuto un incubo Facendo così per svegliare tutti Non ce la posso fare Non ce la posso fare Non ce la posso fare Cioè è troppo Troppo Ho fatto un altro sogno C'è un gruppo di vestitatori Ok In questo momento ho fatto un sogno Dove mi inseguivano Ok Pensavo fossero avuti la loro trappola Queste volta non stavo con le mani in mano Ok Abbiamo trovato un gruppo di umani Nascosti in un ospedale Non si aspettavano il nostro attivo Ok oddio cosa di me mi sta succedendo Leggere queste parole mi davvero mi smenta Smento me stessa Adesso Nadine sta imparando a leggere Devo nascondere questo diario Ho fatto un altro sogno Completamente verso gli altri Sono striscata fuori da terra Mi sono alzato in piedi Le armi umane mi facevano il solletico Raccontato ad Andrew delle creature Il mio sogno è sicuro che non sia vera Ma a queste mostre ho ucciso decine Persino centinaia di persone Da qualche parte No, dovevo fare qualcosa In amore dei rifugiati Andrew ci siamo guardati negli occhi Ok Ma poi riempito di domande Guardando il mio sogno Che vorrei avere più risposte Da dagli Ok Stavo pensando una cosa Se potessi entrare nelle loro teste Intendo dire volontariamente I root conoscono il vordo di 13 Come lo conosco loro Mi so che creano un legame tra di noi Ok So così poco di questo nostro legame Non l'ho mai utilizzato Come posso utilizzarlo Ancora altri rifugiati Il colosso si sta avvicinando Beh Buon Natale Moriremo tutti Ma non riesco a trovare una soluzione Ha funzionato Grazie a Dio È tanto tutto verso il giusto Mentre ci stavamo difendendo Alcuni root Mi sono trovato a faccia a faccia Con un root Diavolo Riuscivo a percepire la sua rabbia E il suo desiderio di uccidermi Così ho deciso di mettermi in contatto Con lui Attraverso il mio momento Ho cercato di trasmettere i miei sentimenti Il mio amore per Andrew E Nadine Con bisogno di vivere Ha induggiato Ma ha funzionato Posso farci Posso salvare il world 13 Andrew non è andato matto Per questa idea Pensa che possiamo sconfiggere il colosso Non possiamo sconfiggerlo da soli Ci rimane poco tempo Le vedette hanno visto il colosso fuori dalla città Inoltre faccio dei sogni sempre più brutti Ma io so che possiamo salvarli Ok Sta arrivando in città Sapendo dritto a noi Andrò alla vecchia chiesa E pieno di root laggiù Devo andarci Prima che Andrew si svegli E cercherà di fermarmi Andrew non è andato in Se mai dovesse leggere questo messaggio Spero capirete quanto vi voglio bene E quanto lo sia stata pazza Per questi anni Devono essere fermati Questa è la cosa più importante Anche se dovessi diventare una di loro Funzionerà Lo so Posso trovare un modo Per tenere nascosto il world al root E di rispingerli a confonderli Non so cosa ne succederà Immagino che se stiate leggendo questo Allora avrà funzionato Tipo in un modo libero E diventiamo Andrew Mi dispiace Ok Questo è il diario Della signorina Mezzalbero Immagino Se ho capito bene Eh aspetta Però qua ci sono più via Adesso magari è chiuso Solo per prendere questo Ehm si Sembra essere chiusa Questa zona Questo portiletto E allora Andiamo giù di là Anche qui Sembra essere chiuso Perché se c'è una porta Che vediamo se possiamo O non Possiamo più C'è una porta Le munizioni Sanguinaria E un oggettino Viola Là dietro Nascosto Scarti Ferrotonico Cerato Ferro Ok Proviamolo Magari come detto Questo gioco Serve più il corpo a corpo Che il fucilazzo Da precisione Però Insomma Sperimentiamo Giustamente Siamo all'inizio Qua non c'era niente No Ok Ecco il cimiterino Ah c'è un'altra zona Di là Quindi forse non Tutto tranquillo Sì Andiamo all'altra zona Pietra dell'alveare Vabbè C'è un po' di destini In tutto ciò E' facile spegnere Una singola vita Come se fosse una candela O un alveare Tuttavia E' un cazzo di inferno Ah c'è un checkpoint Navigabile Molto bene Trovo il custode Del labirinto Ok Cortile occidentale Arrivano Ma io becca libero Sono un po' Eh quello là Eh no che Cristo No Non bug bene troppo dinamico il gioco per mettersi là fa cose mo t'arrampichi oh guarda festa di minchia ok è un po confusionale la storia è un po' l'abirittica magari il fucile di precisione lo tengo per qualche occasione in cui mi serve in maniera specifica quel tipo di arma perché insomma vedendo le ambientazioni non la lascerei equipaggiata è un po' l'abirittica è un po' l'abirittica che scosato cazzo sono dei coniglietti malvagi ah ma ferro non è da pochissimo comunque qua c'è più uno più due ma qua il ferro serve potenzia tutte cose tutto ciò io qua non sto capendo una minchia di dove sono né di dove sto andando tipo questo sarebbe un buon punto per cecchinare ma non credo ci sia niente da cecchinare qui vabbè allora io proverei a vivere questo gioco in maniera un po' meno ragionata e un po' più action perché sennò potrebbe veramente annoiare magari a certi punti andrò un po' più spedito magari mi perdirò qualche cosina in più però c'è sti gran cazzi che c'è sti gran cazz Eh, ho un po' di stamina in più Perché se ci fa spendere la Ma se mi è brutto Ahia, mi sono fatta male L'esplorazione ci fa Consumare stamina Ah, là c'è gente cattiva Potrei utilizzare Questo santo Non vedo niente Utrefazione Questo è più del lanci del bombaggio Mentre c'è di merda Finite cosa? Finite Ok, qua ci sono i bombaroli che danno a potrefazione Con fortuna ne ho portate una vagonata Spero che bastino Che ce ne ho utilizzate due Albrindolina Aspetta un attimo Su inventario Invenzione Illuminazione Questa segna Attenzione rapida Ok Non dovrebbe essere questa la zona Ma non si sa mai Non dovrebbe essere questa la zona Non dovrebbe essere questa la zona Ma non dovrebbe essere questa la zona Non dovrebbe essere questa la zona Ma non dovrebbe essere questa la zona Quindi non dovrebbe essere questa la zona Ah, uno di quei catturi di merda. Vorrei uccidere quello che gli sta al lato, in realtà. No, che cazzo ho fatto? No, ho sbagliato. Sto recuperando, eh, ho spiegato una boccettina di salute. Fanculo. Ho sbagliato tasto, sto ancora facendo pratica con i tasti. Eh, allora, di qua però si va, eh. Beh, si vedono in entrambe le direzioni, allora dove andiamo? Questa sembra un po' più secondaria come storia. Eccolo di qua si sale. Allora, di là si sale. Eh, di qua c'è un edificio. Eh, sono più strade, dove andiamo per prima? Vorrei prendere le strade sbagliate per prima. Di qua mi sa che si continua. attraffanzрьino..." Eh, no. Di qua si va in un'altra zona. E... 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 Non so se è un dungeon, o no. Qualcosa, però... Non lo so, vediamo anche le altre zone prima. Che cazzo, ogni due secondi. Cioè, era necessaria che C'è la stamina Che si spreca durante l'esplorazione Cioè Cioè, mettina che si spreca durante il combattimento Qui Questo casino per niente Cosa cazzo sto? Ah, non si legge questo, no Vabbè, allora, di là si va di un'altra zona O un dungeon, non è chiaro Cioè Dovrebbe essere chiaro che non è un dungeon Però, vediamo Però di qua c'è altra roba Proviamo a cecchinare un po' Eh, fine della cecchirata L'approccio tank L'approccio tank è mitraglietta Quando ne troveremo uno Se non è il migliore Magari non per tutte le situazioni Lo vedremo Lo scopriremo Se è valido per... Bravissima Quando fa queste cose Proprio mi emoziono Eh, secondo me Mi sono andato a infilare In un punto non buono Per Cristo Ma dalla finestrella Bravissimo Bravissimo Ma è ancora vivo, no? Era lo stesso di quello di là Ecco forse è meglio girare La colpa un pazza Comunque Qui dove ero prima, sì Però dall'altra parte Non sono entrato Dovevo andare Quale classe? Ma così cade, no? No, sembrava un... Non so anche a modo Mi potesse sembrare un nemico Ma... Infatti era solo un migrante C'è un oggettino Per non ho recuperato Qua ci sono stato Sulla destra B Credo di... No Eh no Credo proprio di no Aspetta un momento Eh che cosa Ci biforchiamo pure Con un fallo solo Eh comunque Un po' così Un po' sprecata così Però proprio Ma a chi lo... Che lo dice a se stessa È un'incitazione Che si fa Beh Eh no Ma di qua si va Cioè Ragazzi Mi sto confondendo Tro... C'era un passaggio di là Un altro passaggio di qua Qua c'è un'altra via Questa che è una scatola Questa è una scatola Il tuo lo ti dai via È il Yamungin È di qua si continua però È di qua si sale Che cazzo stanno a fa Ah Lascia un oggettino Che ho saltato Però vabbè Sti cazzi Non ho visto neanche Che cazzo ho preso Che cazzo Ma scuja Leida Dove Cazzo Pugato Non c'è un passaggio di qua È possibile Ah infatti c'è Ah infatti c'è Qua è dove l'ho preso Il tuo cazzo Aspetta un attimo Quindi qua mi sto Ricongiungendo A dove sono venuto Dall'inizio Io Impossibile Sta cosa Eh sì Ok ho fatto il giro Ok ok Va bene Una cosa in meno Dammi il tarro Maggio che Detto quell'altro Possa essere Un fai Un piri di barca Aspetta Perrino Che importantino Ah c'è dell'altro Oggettino Vediamo che cosa Una benda Che va bene Ah quelli verdi Forse sono i consumabili Quelli gialli Forse sono L'attrezzatura Per il crafting Quelli rossi Sono oggetti Di missione Quelli viola Sono anellini Eh no Di qua Eh ma poto dare Un motorino Qualcosina Aspettate di qua Non mi è entrato Non me l'è necessario Non so No qua ci avrei entrato Ma mi ero perso Quello evidentemente Mi sto perdendo Due miliardi Di cose Però va bene Allora Vediamo in questa Bella zona Cosa ci aspetta Una grande Inchiappettata Ah un checkpoint C'è Attenzione È un checkpoint Vero È fasulo No è vero Allora Fermi tutti Checkpoint Vero Attivalo Posso non riposarmi Però No Si è riposato Allora sei stronzo Perché adesso Voglio tornare indietro Dove ho lasciato La stradina Però Mi è rimesso Tutti i nemici Immagino Eh sì Eh sì Mi è rimesso Tutti i nemici Avanti No no Vabbè Vai dritto Per la tua strada Gise Non sembra In realtà Finora No C'è il mitraglione Questo divino Che è che rompe le palle Un posto così? No Che mira di merda Che mira di merda Allora Era qui La stradina Nascosta Non mi ricordo Se c'erano nemici In questa zona Intanto però Una Punto caratteristica Ce l'abbiamo Lo buttiamo Ancora in questo Per fare ancora Più esperienza E quindi fare ancora Più livelli E fare ancora Più esperienza Per fare ancora Più livelli Oh Vediamo adesso Se questa cosa È un dungeon O è un'altra zona Poi mi fermerei pure Perché mi sono rotto Puro un po' il cazzo Teschio Redettivo Il deserto È spietato E non permette a nulla Di sopravvivere Solo ciò Che non è praticamente Vivo Per cominciare Per cominciare Va bene Va bene Va bene Ah c'è un Checkpoint Laboratorio di reddito Scappa dal laboratorio Eh perché Devo scappare Cioè ci sono Appena entrato Però vabbè È un dungeon Questo È un dungeon Quindi Penso che ci sarà Il Tutta la zona Labirintica Il bossino Di zona Eccetera Eccetera Vediamo che i nemici Ci stanno dentro Ma solo per curiosità Perché non me lo voglio fare Adesso Ah è rotto il computer Ok Eh però Ha fatto tutto di fida Perché non ti permette Di teletrasportarti Mannaggia Alla Buttana di Eva Non lo so Che cazzo ho fatto Combinato Un macello Gise Che Cristo Divino Sei Ma attenzione Ma che sto Degli alberoni Mazza Sono tosti Porca Puttana Di Eva E Qualcun altro Eh Mi aveva Parlato Di Degli alberoni Mazza Sono più tossi Degli altri Questi Sembra che non faccia Effetto Ah ma non c'ho Le chiavi Io qua No E quindi non posso Fa' niente O posso Fa' delle cose Do state Dove state Dove state Porca la puttana di Eva Porca puttana No 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 Non c'è spazio Non c'è spazio Per tutti Ma che Cristo Ma che cosa fai Che cosa fai Cosa cazzo Sono là No Eh vabbè Un momento Un momento Sì vabbè Ma come cazzo Ma 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 stava A 75 km Ma vaffanculo Va Anyway Sì vabbè